La professione di farmacista è in continua evoluzione e essendo un mondo che è sempre più veloce, la vita è frenetica, le innovazioni sono costanti, la formazione diventa un tassello imprescindibile che ha però bisogno di essere rafforzata ed è proprio qui che entra in gioco il coaching. Quindi dottor Ongaro quali strumenti e nuove consapevolezze avrà il farmacista che decide di partecipare in side by side e quali valori porterà con sé dopo il giorno e mezzo che gli avrai dedicato? Io credo che ci sia un punto di partenza su cui ragionare, insomma tutti l'abbiamo sperimentato nella nostra vita professionale che è lo schiacciamento della dimensione personale a favore della dimensione professionale, è una cosa che tutti tendiamo a fare, cioè quando il mestiere, il lavoro ci richiede qualcosa in più, quando le esigenze aumentano, quando la pressione aumenta, quello che viene schiacciato è la dimensione personale e quindi si comincia a tagliare sul tempo per se stessi, sul tempo per la propria salute, sul tempo per la famiglia, sul tempo per gli affetti, sul tempo per gli hobby, no? E questo ha un costo, quindi tantissime persone, tantissimi professionisti e certamente tantissimi farmacisti hanno già sperimentato questo costo, cioè hanno sperimentato il costo, la fatica, l'ogorio del mettere in disparte altre parti della propria vita. Ecco, io credo che quello che è importante è trovare un nuovo equilibrio, perché in realtà anche le ricerche nel campo per esempio della produttività dimostrano che non è fare di più che porta più risultati, ma che è fare meglio, ma per fare meglio devi avere una sintonia con il tuo organismo molto più profonda di quella che in genere abbiamo. Faccio l'esempio senza voler dire che dobbiamo trasformare il farmacista in un atleta, ma l'esempio è la foto d'elite, cioè l'atleta d'elite che sa che quando va in gara riesce a dare il massimo perché è in totale sintonia mente e corpo, perché si conosce molto bene, perché è sensibile riguardo alle proprie capacità di quella giornata, cosa che anche noi mettiamo in disparte, cioè noi anche quando non ci sentiamo bene chiudiamo un occhio, tiriamo la cinghia, andiamo avanti e arriviamo magari distrutti alla sera, ma non ci soffermiamo a capire cosa potrei fare per il mio organismo, per la mia mente, perché funzioni meglio. Questo dovrebbe essere il risultato, cioè il risultato dovrebbe essere una comprensione di come funzioniamo che porta a una migliore gestione di se stessi nella pratica quotidiana, partendo da, ma contemplando poi anche i gesti che conosciamo tutti bene ma spesso tralasciamo, della nutrizione, dell'allenamento, delle tecniche di rilassamento, ma anche della parte mentale, perché poi questi sono tutti mestieri che hanno un risvolto intellettuale, non sono mestieri che richiedono una prestazione fisica e dunque è nella nostra testa che dobbiamo funzionare meglio per trovare ancora una volta quelle risorse, per fare ancora un sorriso, per dare ancora un consiglio sensato, perché poi il lavoro del farmacista è un lavoro di interazione umana e dobbiamo ricordarci sempre che le interazioni umane sono degli specchi e dunque la qualità dell'interazione che avrò dipende tantissimo dalla qualità di come io non entrerò in quella relazione, ma per entrare in quella relazione con la qualità giusta devo star bene, devo star bene con me stesso, non devo essere atteso, non devo essere sotto stress, non devo essere troppo affaticato da un punto di vista mentale. Quindi questo è un po' quello che mi piacerebbe portare a chi parteciperà, al tornare dopo questo corso al proprio lavoro con dei presupposti diversi, conoscendosi più a fondo e riuscendo quindi a dare, a fare meglio, a dare di più consumando meno. Questo. Che sicuramente non è cosa da tutti i giorni, anche perché poi la relazione oggi è centrale nella vita delle persone e a maggior ragione nella vita di un farmacista che ha tutti i giorni a che fare con il pubblico. Assolutamente e appunto, diciamo, viene da pensare che poi alla fine la maggior parte di noi provano a dare il massimo sempre. Io parto da questo presupposto, sono una persona tendenzialmente ottimista e dico, secondo me le persone provano a fare il loro meglio, provano a fare il loro massimo, no? Ma è il costo di questo che viene sottovalutato, è il costo. E siccome la vita di tutti noi non è più uno sprint ma è una maratona, dobbiamo ricordarci di questo costo, perché io posso arrivare a dare il massimo, ma andando durante la giornata a duemila giri e quindi consumando poco, arrivando comunque lucido alla fine della serata, oppure posso invece arrivare a dare il massimo, ma stando a otto mila giri e logorando in maniera molto forte il mio organismo. Quindi è un po' questo che dobbiamo ricordarci. Ma quello che ci interessa anche far passare è anche la questione del valore, come parlavamo prima, cioè la questione è che ognuno conferisce un significato diverso, alla parola valore conferisce un significato diverso. Esistono infatti anche cose costose e invece cose di valore. Quindi come possiamo riconoscere un percorso di valore? Cioè inside beside è un percorso di valore? Beh, io credo sicuramente di sì, ma credo che la variabile principale sia proprio quella di capire che cosa ti arricchisce. Le cose costose sono costose, ma non necessariamente ti arricchiscono. Le cose di valore possono essere costose come no, ma hanno il potere di arricchirti di emozioni, di conoscenze, di consapevolezza di quello che è. Ecco, mi piace pensare che questo percorso sia un percorso di valore perché è un percorso per se stessi. È un percorso per stare meglio con se stessi. È un percorso per conoscersi meglio. E questo ha di per sé un valore inestimabile perché se stiamo bene con noi stessi, se stiamo meglio con noi stessi, insomma cambia un po' la nostra vita in toto. Perché la maggiore componente di giudizio e di interpretazione che diamo sulla nostra vita è in realtà il rapporto che abbiamo con noi stessi. Quindi io credo che sia questo il concetto, insomma, di investire su cose che ti arricchiscono, che ti fanno tornare a casa in uno stato di maggiore conoscenza e maggiore consapevolezza. Quindi, per concludere, io ti farei dire, anche se so che non vuoi anticipare troppo perché la suspense rende tutto un po' più intrigante, tre motivi per cui il farmacista non può mancare a questo appuntamento. Sì, allora, faccio una piccola premessa. Non è che non voglio dichiarare di più, è che davvero nel coaching se sai già tutto com'è un programma scientifico, chiaramente il setup mentale con cui vai è diverso. Quindi nel coaching si dichiara un po' meno di una conferenza scientifica in modo tale che la persona venga e sia aperta anche a stupirsi di cambiamenti di dinamiche all'interno del gruppo. Ma tre motivi, secondo me, sono molto semplici per crescere, per conoscere meglio se stessi, ma soprattutto per stare meglio con se stessi come persone e come professionisti. Questi sono per me i tre principali motivi. E anche, ne aggiungo un quarto, per divertirsi. Perché crescere è divertimento, è capire meglio se stessi, è scoprire nuove risorse, nuove potenzialità. Quindi non c'è cosa più bella della crescita, non c'è cosa più bella della crescita. È anche un po' un modo per uscire da una comfort zone, perché essendo un evento diverso da quelli solitamente dedicati alla farmacia, quindi magari anche un po' più tipo conferenza, come dicevi tu. Sicuramente sarà un'esperienza che non vediamo l'ora di affrontare e quindi non vediamo l'ora di stupirsi il 23, il 24 settembre a Rimini. Quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per il tuo tempo. Grazie per averci anticipato un po' quello che ci aspetterà a Rimini. E noi ci vediamo a Rimini, appunto, al Grand Hotel, il 23 e il 24 settembre, insieme a te, dottor Filippo Ungaro. Grazie ancora. Grazie mille, grazie a te. Grazie a tutti per averci seguito. Per qualsiasi aggiornamento su Inside Beside, potrete seguirci su Instagram, sul profilo Inside, trattino basso, Beside, e sul sito Cosmopharma nella sezione dedicata. È ancora attiva la super promo per acquistare il biglietto a una tariffa agevolata, che però sarà valida fino al 30 giugno. Quindi non mi resta che augurarvi buona giornata. Ci vediamo tra qualche settimana per un altro Cosmopharma Forma, che sarà insieme a Luca Mazzucchelli, che sarà il coach che vi accompagnerà nella seconda tappa di gennaio a Milano. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.